Le barriere architettoniche sono uno dei principali ostacoli che limitano la vita e l'integrazione sociale quotidiana dalle persone con disabilità. Sono ovunque, per strada, sui marciapiedi, nei edifici pubblici e privati. Negli anni si sono susseguiti interventi, sempre troppo pochi, nel tentativo di ridurne il numero. Tuttavia, c'è un ambiente che viene spesso strascurato o trattato con sufficienza. Il bagno. Sono pochi, infatti, i locali che mettono a disposizione della propria clientela bagni a norma per persone con disabilità. Rari gli alberghi in una terra in una provincia avvocata al turismo. Di frequente, poi, persino i bagni allestiti per venire incontro alle esigenze delle persone con disabilità in realtà non rispettano semplici criteri essenziali. Questo è veramente un grosso problema, soprattutto per i turisti, perché trovare un bagno idoneo che possa soddisfare tutte quelle che sono necessità di una persona disabile è complicatissimo. Soprattutto mi riferisco agli alberghi, perché chiaramente non diciamo che il problema grosso non è fare la pipì ma evacuare. In questi casi qui c'è la necessità di lavarsi. Ci sono tantissimi alberghi che pur avendo la stanza disabili, quindi attrezzata, con maniglioni e WC con scasso, però poi non presentano la doccetta per poter essere utilizzati come bidet. Questa è una problematica veramente molto importante, perché per la dignità stessa della persona si è costretti veramente a trovare stratagemmi e scocitare soluzioni che delle volte sono anche pericolose per la sicurezza stessa della persona. Paradosso, la situazione si presenta anche in ospedale. Purtroppo sì. È recente un caso di un ragazzo ricoverato che lui per evacuare andava a casa sua, perché nell'ospedale di Ravenna non c'è un bagno attrezzato che abbia la doccetta appunto da poter permettere di usare WC anche come bidet. I locali invece pubblici della città, com'è la situazione? È abbastanza drastica, nel senso che pochissimi sono le strutture recettive, quindi bar e ristoranti, che appunto hanno dei bagni veramente adeguati. Anche perché la normativa nazionale non prevede l'uso della doccetta, anche perché è una legge vecchia di 30 anni, quindi di fatto al tempo non era prevista. Adesso c'è l'indicazione appunto di posizionare la doccetta, diciamo adesso del water, però soltanto pochi locali lo fanno e quindi nell'attesa e poi soprattutto purtroppo questi locali non è facile identificarli, per cui il turista che viene da fuori non sa dove poter trovare delle strutture che siano veramente idonee. L'assenza della doccetta poi però non è l'unico problema che è riscontrata all'interno dei bagni. Sì, vero, perché la maggior parte dei bagni che si trovano in giro in bar, ristoranti e alberghi purtroppo non sono montati adeguatamente, nel senso che i maniglioni sono posizionati in posizioni spesso sbagliate o non adeguate o della dimensione sbagliata e fa sì che di fatto il lisabile non lo possa veramente utilizzare. Stesso discorso anche per quanto riguarda le docce, molto spesso c'è magari un seggiolino attaccato alla parete, poi si trovano i miscelatori dietro la schiena e non ci sono magari i maniglioni posizionati in maniera adeguata per far sì che poi la persona possa stare seduta in sicurezza e purtroppo non ci si rende conto che il lisabile, che magari è un paraplegico come sono io non avendo il controllo del busto non ha neanche l'equilibrio quindi fondamentalmente deve fare tante operazioni in veramente, come si dice sulle uova in equilibrio precario, rischiamo di cadere e quindi di farsi male.